La Commissione ha preso atto che, secondo quanto affermato in audizione, le parole utilizzate nel suo intervento in Aula, seppure con toni che appaiono politicamente aspri, intendevano essere testimonianza di una preoccupazione riguardo ad eventuali effetti indiretti su un affievolimento dell'Istituto di cui è l'articolo 41 bis nei confronti del cospito e pertanto non lesive dell'onorabilità dei deputati serracchiani, Lai e Orlando. Punto 4. Per quanto riguarda, infine, il Senatore Verini, nel ribadire che gli atti della Commissione che riguardano ed esplicano i propri effetti nei confronti dei soli deputati non possono in alcun modo riguardare profili concernenti la sua persona. Si è convenuto sull'esigenza che sia valutata nelle sedi idonee sotto un profilo costituzionale e regolamentare ogni possibile modalità finché sia assicurato il diritto di tutela per i componenti di entrambe le Camere nel caso si venga accusati di fatti ritenuti lesivi della propria onorabilità nel corso della discussione presso uno dei due rami del Parlamento.